Sono Federico Cimini, in arte Cimini, sono un cantatore e vengo dalla Calabria ma vivo da sempre a Bologna. Sono arrivato a Bologna per studiare all'università. Il fatto di trasferirmi è stato un momento cruciale perché mi sono accorto delle mancanze della mia terra e di quello che scoprivo di nuovo a Bologna e che in Calabria non c'era. Bologna mi ha aiutato molto per questo perché Bologna è una fucina e Bologna è arte quindi dove ti giri giri vedi qualcosa che ti può aiutare. In Tirreno parlo di un senso di non appartenenza ma di appartenenza anche perché il fatto di andarsene da una casa e trovarne una nuova ti lascia un bagaglio di ricordi e ti lascia tante speranze pure. Scrivere canzoni è sempre un po' fare un'autoanalisi e anche esorcizzare i turbamenti della propria esistenza condividendoli con gli altri. In Tirreno penso e spero di essersi riuscito intanto con l'empatia nei confronti del pubblico perché avevo bisogno davvero di condividere questa necessità ed è bello quando la gente mi scrive questa canzone parla di me, parla della storia della mia vita cioè quella di prendere un treno da un paese in cui non c'è nulla e arrivare in un posto più grande con un bagaglio di sogni magari. Mi sarebbe piaciuto molto avere il coraggio di restare in Calabria così come a Bologna ad esempio persone come Dalla e Cremonini sono rimaste e sono diventate delle bandiere di questa città. Però quello che mi mancava era troppo rispetto a quello che avevo in quel momento. È stata una scusa probabilmente perché a Bologna volevo esplorare le mie prospettive. Quando mi sono accorto che a Bologna si suonava, quando mi sono accorto che si poteva tentare una strada che non ti portava per forza verso un posto fisso allora ho deciso di fermarmi perché ho iniziato a sentire questa città casa mia proprio perché riesco tuttora a uscire di casa e muovermi in una grande città come se fosse un piccolo paese quindi una realtà a cui sono stato abituato, con cui sono cresciuto sin da bambino e poi soprattutto vivere di futuro, vivere di ricordi è un buon mix che mi porta a scrivere le canzoni giuste per me. Allora a livello musicale negli ultimi anni Bologna ha creato e ha subito le influenze in cui ci troviamo e le influenze che sono diventate già storia soprattutto nell'ultimo decennio che è il decennio della velocità. Da qui passa di tutto, Bologna è uno snodo ferroviario, è un punto di passaggio in cui questa posizione anche nella cartina geografica aiuta, ha sempre aiutato. Musicalmente come è cambiata? Si è evoluta ma come dicevo è stata anche fucina di movimenti perché non ha subito un imprinting troppo underground rispetto al passato ma perché di qua passa di tutto secondo me. Allora il karaoke tour è uscito fuori questa idea di andare su un palco e di fare una roba un po' teatrale diciamo così, una cosa che coinvolgesse il pubblico, che facesse sfogare me, che portasse nuovamente i tecnici a fare il proprio lavoro. Come simbolo di questa cosa ho deciso di chiamare un tecnico artista e di metterlo sul palco e quindi ho chiesto a Ziliani di partecipare un po' come regista di un karaoke, sapete i karaoke ci sono ci sono i registi che c'è sempre una signora di solito un po' andata con l'età che sta lì e mette le basi per le persone che vogliono cantare delle canzoni. Per rendere dinamico il tutto e per dargli un senso abbiamo deciso di proporre a Lodo Uenzi la regia di questo spettacolo e con Lodo è uscita fuori una roba nuova, una roba diversa. Attraverso l'interazione che si creava, attraverso la gente che c'era, che viene al karaoke, lo spettacolo poteva diventare o un concerto sfogo e sottolineo questa parola, oppure uno spettacolo teatrale. Quando scrivo una canzone subisco molto l'influenza cinematografica perché mi piace guardare molti film fondamentalmente. Io attingo molto dalla cultura popolare. Ci sono dei film che quando li guardo mi viene da scrivere. A volte sono proprio delle citazioni, quelle che poi diventano delle citazioni, cioè copio i dialoghi del film e altre volte scherzi a parte cerco di prendere delle citazioni e le metto dentro per un motivo personale, spero che queste citazioni non vengano comprese. Se dovessi fare una colonna sonora per un film, posso guardare in camera, voglio fare la colonna sonora di un film di Nanni Moretti, vorrei, maestro. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti!